Il labirinto come movimento a spirale, come ossessivo, come percezione di una difficoltà a passare, quello l'ho rappresentato come questo insieme di passaggi interrotti, di ostacoli, con questa luce che si intravede all'interno come se fosse irraggiungibile. C'è sempre questo movimento a spirale, a vortice, che si ripete anche in quello superiore, che è ispirato all'orologio astronomico di Praga, appunto per simboleggiare l'elemento del tempo che ci sovrasta e c'è sempre questi movimenti circolari, la circolarità del tempo.